Ben ritrovati con il primo corso di supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione ufficialmente partito il progetto Rotary a cuore aperto che si prefigge la cardioprotezione di fasce sempre più ampie della popolazione. Ne parla Alessandro Speca, presidente Rotary Club San Benedetto Nord e governatore della confraternita Misericordia di Grotta Mare. Sì, Rotary a cuore aperto è un progetto del Rotary Club di San Benedetto del Tronto Nord in rete con il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, l'Inner Will sempre cittadino e il Rotara Club, i giovani del luogo. Oltre a questo si aggiunge il distretto 2090 del Rotary e della formazione, cosa essenziale per poter utilizzare al meglio questi strumenti che sono i defibrillatori semiautomatici, si occuperà il centro di formazione Misericordia d'Italia. Collaborano anche la Misericordia di Grotta Mare che donerà un defibrillatore, anche devo segnalare, oltre al contributo del comune di Grotta Mare, anche la famiglia del dottor Filippo Petrone, compianto medico di base e cardiologo che contribuirà anch'esso con un defibrillatore. Ci sono tre fasi, una entro la fine di quest'anno, la prossima la seconda a febbraio-marzo e l'altra verso maggio-giugno dove in questo periodo questa dilazione ci consente ovviamente di poter operare i corsi di formazione sulla defibrillazione precoce che sono essenziali. Certo è da dire che la defibrillazione precoce è un argomento che non smetterà mai di essere di attualità in quanto le vite che può salvare sono tante e quindi con questo tipo di attività vogliamo incrementare la presenza di defibrillatori semiautomatici non solo su Grotta Mare ovviamente ma su tutti i comuni della Rivera delle Palme.